Un giro d'affari milionario basato sull'utilizzo di bolle doganali alterate e di timbri contraffatti, false certificazioni prodotte ad hoc da una famiglia trevigiana ed utilizzate per importare auto di lusso dalla Svizzera evadendo le imposte. Ecco il video diffuso dalla Guardia di Finanza che immortala la produzione casalinga di documenti attestanti l'avvenuto pagamento dei diritti di confine e dell'IVA. La famiglia era parte integrante dell'associazione e si occupava soprattutto del recupero delle autovetture all'estero e della produzione delle bolle doganali false. L'operazione denominata Checkpoint ha scominato un'organizzazione operante nel commercio intracomunitario di autovetture di lusso, BMW, Audi, persino Bentley, 130 ai veicoli immatricolati attraverso fittizie intestazioni e poi rivenduti sul mercato nazionale in totale evasione di IVA. 15 le persone coinvolte nel giro, 8 i soggetti agli arresti domiciliari, sequestri per oltre un milione di euro. Ha portato all'esecuzione di 8 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanto sodali e al sequestro preventivo finalizzato dalla confisca per equivalente di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per oltre un milione di euro. L'operazione è stata condotta dalle fiamme gialle di Treviso in collaborazione con la Polizia Stradale di Vicenza. Il controllo è avvenuto documentalmente nel senso che nello svolgimento di attività istituzionali presso alcune motorizzazioni del nord Italia ci siamo avvenuti flussi di nazionalizzazioni di veicoli esteri di volume non apparentemente ingiustificato in relazione all'ufficio nel quale venivano presentate. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite oltre che nella provincia di Treviso, a Venezia, Verona, Pordenone, Brescia e Cremona.